Signore e signori, il precedente governo sedicente tedoforo della civiltà occidentale ha defalcato del 25% i fondi del FUS e allo stato delle cose non ci sono provvedimenti in controtendenza. Questo provvedimento la cui natura è solamente punitiva e vendicativa non colpisce i celebrati attori della TV, bensì migliaia e migliaia di semplici lavoratori depositari di un'arte antica. Attrezzisti, macchinisti, decoratori, scenotecnici, sarte, ricamatrici, amministratori, fonici, elettricisti, trasportatori. I tedofori della civiltà occidentale mentono spudoratamente che cos'è infatti la civiltà occidentale senza il suo teatro, che cos'è senza i tragici greci, senza Shakespeare, senza la commedia dell'arte, senza l'opera buffa, senza la sua grande musica, senza il melodramma, senza Pirandello, senza Ibsen, senza Dario Fo. I tedofori della civiltà occidentale vogliono distruggerla sostituendone i valori con idoli d'oro e del danaro, idoli di imitazione mesopotamica che hanno occhi e non vedono, narici e non respirano, bocche e non parlano. La stage orchestra è il leggendario Chosonier Ivo Bucciarelli, celebrato da tutti gli spioni della seconda guerra mondiale.